attenzione è meglio in discesa libera che nel calcio devo mettere a posto uno era giusto con la testa l'altro era troppo alto in linea ma troppo alto adesso non sentenza che va dentro un saluto allora a tutti i ragazzi del Milan Camp vero? un saluto a tutti i ragazzi del Milan Camp un bello squadrone è una bella cosa iniziativa che va avanti da tanti anni e funziona sempre grazie a Cristian Gerina Cortina grazie